Secondo posto, miglior difesa del girone e imbattibilità mantenuta. La domenica del Cartigliano, nonostante l'1-1 con il San Martino speme, è di quelle che lasciano una sensazione piacevole. C'era, e ci sarà ancora per qualche settimana, l'emergenza giovani indisponibili, c'era un avversario di tutto rispetto e c'era un arbitro non in giornata di grazia. Insomma, il gol di Barzon sembrava poter valere i tre punti e sarebbe stato così se non avessero annullato due reti ai ragazzi di Alessandro Ferronato e se almeno una delle tre palle gol colossali costruite dal Cartigliano fosse entrata. Invece, Moraschi beffa Zecchine nel secondo tempo e la gara resta in equilibrio fino alla fine. Il Cartigliano però brinda lo stesso, col suo bicchiere mezzo pieno.